buongiorno a tutti che siete benvenuti sul canale siamo ancora qui nella stava tasca cittadini di springfield e stiamo andando avanti con il nuovo evento sull'intelligenza artificiale come vedete qui ci hanno sbloccato la parte 4 dell'evento che sarebbe il codice per dinci noi stiamo ancora completando la parte 1 che sarebbe l'alba del pianeta delle macchine oggi andremo a portare a termine la parte 3 gettone scatola misteriosa un futuro bartoso quindi avremo un gettone scatola ma tanto il tempo ce l'abbiamo ancora bello che tranquillo insomma arriveremo lontano lontano dunque oggi andremo a completare anche un altro paio di missioni quella di nelson del futuro e quella di lampante lampwick allora io spero nel frattempo iniziamo a riscuotere che tanto ci portiamo avanti io spero oggi ragazzi di arrivare al livello 151 innanzitutto e vediamo più lontano possibile che riusciamo ad arrivare siamo sui 490 mila punti esperienza come base di partenza dunque speriamo di arrivare il più lontano possibile io confido ragazzi di fare almeno 100 150 mila punti perché se non veramente è successo qualcosa allora o hanno ridotto i drop di qualche edificio e perché se no non si spiega cioè prima riuscivo a fare molti più punti esperienza anche perché se voi ci guardate comunque servono sempre 500 mila punti per passare il livello quindi il numero di punti esperienza non è cambiato e bene o male gli edifici quelli sono non è che io abbia ridotto chissà che effettivamente quindi non lo so dovremo valutare un attimino però magari mi informerò meglio non appena terminato di registrare l'episodio comunque secondo me vabbè di arrivare ci arriviamo al 151 però secondo me qualcosa è cambiato e non so effettivamente cosa sia cambiato comunque quindi questa macchina può fare qualunque cosa e beh scommetto che non può aiutare lì sa farsi degli amici a scuola perché non riesce mai a lasciarmi in pace risposta perché maschi adolescenti solitamente criticano i propri fratelli o sorelle alla ricerca di attenzioni a causa di sentimenti di relativa inadeguatezza non puoi parlarmi così rileva una preoccupante mancanza di autostima nella tua voce umano vuoi che individui un psicologo in zona per discutere ulteriormente di questo problema come ti pare me ne vado professor flink mi segni tutto quello che c'è da sapere su questa macchina livello 151 raggiunto ho avuto io l'idea di realizzare il gioco ma non voglio riconoscimenti sono pacchiani quindi parte 3 è il nostro bel gettone l'abbiamo avuto guardate quanta cacchio di roba c'è mamma mia ragazzi wow quindi se tutto quello che mi ha insegnato è vero queste macchine sono davvero in grado di predire gli eventi futuri assolutamente risultati sportivi attacchi terroristici il colore della torta questa macchina imbattibile facciamo una prova dove si troverà mio padre stasera alla taverna di bo dove si trova adesso dove si troverà fino all'orario di chiusura beh oddio questa non penso che è infatti domanda più difficile non penso che fosse una domanda chissà che particolarmente impegnativa comunque cartellone treno ad alta velocità ricompensa 4 la prenderemo nel prossimo episodio vediamo un attimo come siamo messi in termini di tempistiche in questo episodio e poi valuteremo un attimino come muoverci rispetto ai prossimi episodi tanto qui sì come vedete abbiamo preso tutto quanto figo un colpo diretto ora prendiamolo prendiamolo prima che scappi perché mi hai colpito sono un vecchio innocente è una multa per divieto di sosta non pagata ti porto dentro per la taglia quando mi si mette alle strette divento come un gatto indiavolato che urla e graffia dunque evento completato soldato di proporzione parte 3 abbiamo dunque completato l'evento del nelson futuristico e sono abbastanza contento perché comunque abbiamo sostanzialmente liberato uno spazio missione che avevamo impegnato sbloccando il personaggio di nelson futuristico allora abbiamo praticamente raggiunto tutto sì abbiamo preso tutto quanto arriviamo quindi alla nostra bella minierina vedete qui quanta roba abbiamo 7000 punti esperienza vediamo cosa riusciamo a fare capiamo un attimino ecco vedete 28.097 cioè prima avevamo fatto molti più punti esperienza io non so non so che dirvi ragazzi cioè 22.000 punti 21.000 punti abbiamo fatto come è possibile prima ne facevamo 70 80.000 e qui qualcosa qualcosa non va qualcosa non va dobbiamo dobbiamo capire un attimo comunque detto questo ragazzuoli cari abbiamo preso praticamente tutto quanto dunque andiamo a vedere la missione del lampante lamp week che a non è terminata perché deve trasmettere bart contenuti in streaming allora a questo punto sapete che vi dico andiamo a completare qualcosina dello shopping che abbiamo fatto negli scorsi episodi che qui possiamo completare questi tre edifici qui eccoli e poi andiamo a comprare qualcosina di nuovo dunque questo qui è il primo edificio astro casa tassa patrimoniale ogni 8 ore 150 dollari e 13 esperienza non male direi abbastanza buono onesto qui abbiamo un altro edificio multipiano futuristi commenta l'affitto ogni 4 ore 90 dollari e 10 esperienza qui anche abbastanza normale no l'astro casa ok gazzettino di springfield speculare come facciamo essere ancora aperti ogni 4 ore 90 dollari 10 esperienza beh ragazzi comunque se notate un attimo diciamo che i prezzi e i guadagni sono abbastanza adeguati ormai tra i vari edifici tranne qualcosina che sicuramente deve cambiare tipo questo qui ogni 8 ore 150 dollari e 13 esperienza però sostanzialmente stiamo là 4 ore 90 dollari questo 150 stiamo là alla fine sarebbe dovuto essere 180 ma diciamo che ci arrangiamo anche vediamo qui cosa a questo quello possiamo completare anche lo sapete che vi dico andiamo a completare anche questo vediamo un attimino il confidenziale dai un aria di mistero gli assassini ogni 4 ore 90 dollari e 10 esperienza infatti come vedete ragazzoli cari stiamo bene o male sulle stesse cifre questi sono i quattro edifici che abbiamo completato quest'oggi eccoli qui poi chiaramente a fine episodio andrò un attimino a sistemarmeli io direi questi ultimi tre edifici li lasciamo per il prossimo episodio e poi andiamo a completare un attimino come vedete aspettate come vedete qui ci servono i due poliziotti quindi andiamo a completare la missione che ci dice di posizionare il bel furgoncino della SWAT poliziotti cattivi parte 2 abbiamo sbloccato lui ed eddy ecco vedete dipendenti pubblici qui ce ne sono un miliardo ma noi abbiamo sbloccato questi due quindi andiamo a vedere lisa cosa ci dice presidente skinner ha mai pensato a quello che viene dopo tutto questo vuoi dire l'aldilà certo un'idea abbastanza precisa il paradiso e me e mamma seduti su confortevoli poltrone e io controllo il telecomando della tv l'inferno è uguale certo che scegliere i programmi no voglio dire quello che succede dopo che noi ragazzi lasciamole elementari di springfield ci serve una scuola superiore skinner parte 1 quindi dobbiamo costruire le scuole superiori e qui c'è il nostro bel poliziotto che ci dice dell'altro tutti si stanno a lamentare i tempi di reazione della polizia perciò dobbiamo mettere in piedi un bello spettacolo per la gente qualcosa tipo avenue q no idiota dove li troviamo i soldi per pupazzi di quella qualità ma non voglio fare troppi giri di pattuglia perché non c'è nessuna garanzia che qualcuno ci veda perciò sto organizzando un'esercitazione atletica poliziotto cattivi parte 3 quindi un'esercitazione atletica sta preparando il nostro buon winchester e vedete qui abbiamo il furgoncino della swat che tanto è una decorazione e non ci farà cliccare assolutamente niente quindi allora io sapete che vi dico vado a guardare un attimino qui infatti vedete adesso li abbiamo sbloccati tutti quanti così potremo velocizzare un attimino la situazione quindi allora personaggi non ne prendiamo che tanto ne abbiamo presi due edificio multipiano già ce l'abbiamo prendiamo qualcos'altro tipo libraccino speculare questo qui dove lo possiamo piazzare lo piazziamo qui ok e prendiamo magari sportacus speculare lo mettiamo qui ok abbiamo preso due edifici che poi nel prossimo episodio andremo a completare ragazzuli cari io vi ringrazio per aver esecuto questo episodio di mia compagnia ci vediamo al prossimo video auguro a tutti quanti una buonissima serata e ciao a tutti ragazzi